Per la terapia del melanoma e di molte altre forme di tumore si sta affacciando una nuova classe di farmaci. Sono gli anti-PD1, farmaci che bloccando particolari recettori aumentano la capacità del sistema immunitario di combattere i tumori. Ne parliamo con la dottoressa Paola Queirolo, presidente dell'intergruppo Melanoma Italiano e oncologa dell'Istituto dei Tumori di Genova. Dottoressa, come agiscono esattamente gli anti-PD1? Intanto in grandi linee gli anticorpi immunomodulanti, questa nuova classe di farmaci, agiscono proprio in questo modo. Sono anticorpi che sbloccano il blocco immunologico. Entrando nel dettaglio, quindi volendo descrivere il checkpoint immunologico che deve essere comunque bloccato da questo tipo di anticorpo, possiamo dire che questo viene espresso non solo dai linfociti B e dai linfociti T, ma anche dalle cellule natural killer, dalle cellule dendritiche, dai macrofagi, dai monociti e il suo ligando è ampiamente espresso, soprattutto il PDL1, sulle cellule tumorali ed è coinvolto nei processi di tolleranza immunologica dei tessuti non linfoidi, quindi è responsabile ad esempio della presenza delle cellule T regolatorie. Mentre il PDL1, cioè il secondo ligando del PD1, è meno diffuso disperso di solito sulle cellule che presentano l'antigene. Il fatto importante è che entrambi i ligandi sono indotti in numerosi tipi cellulari nel contesto di un microambiente di tipo infiammatorio ed è proprio questa abilità di esprimere il PDL ad essere sfruttata dai tumori come meccanismo di escape. Quindi il legame PD1, PDL1 e PDL2 sono espressione dell'infiammazione che favorisce il cancro e bloccando o il PD1 o i loro ligandi noi possiamo ottenere una diminuzione di questa attività infiammatoria e quindi bloccare in qualche modo il tumore a livello periferico. Diciamo che questo tipo di razionale è stato impiegato nel melanoma per la prima volta, infatti Pembrolizumab, che è il primo anticorpo, anti-PD1, approvato anche dal Food and Drug Administration, è stato provato proprio nel melanoma, proprio perché da sempre questa patologia rappresenta un modello di applicazione dell'immunoterapia. Scarsa attività da sempre hanno i classici chemioterapici, per più di 30 anni noi abbiamo impiegato farmaci considerati appunto terapie tradizionali come la dacarbazina, la fotemustina che non hanno mai dato un vantaggio in sopravvivenza ma solo qualche saltuario a risposta del tumore e per questo motivo, proprio per la mancanza di altri tipi di strategie terapeutiche, da sempre si studia l'immunoterapia nel melanoma. Ma in realtà questo è davvero solo l'inizio di una storia, l'attività di un farmaco immunomodulante che sblocca il blocco immunologico come l'antipidi 1 sarà poi una strategia che verrà applicata in altri tumori. Sappiamo già che nel tumore del polmone ha una sua attività, probabilmente anche un'efficacia, c'è un vantaggio in sopravvivenza e nel caso di questi anticorpi noi parliamo di sopravvivenza a lungo termine, abbiamo già i dati ad esempio che a 18 mesi la sopravvivenza si mantiene rispetto ai 12 mesi con pembrolizumab che è intorno al 60% e in altri tumori come i tumori della testa e colla, i tumori della vescica, i tumori della mammella, sono iniziando una serie di studi per cui il melanoma sarà il modello in cui applicheremo queste terapie anche in altri tumori. Negli Stati Uniti pembrolizumab è stato approvato in seconda linea nel melanoma metastatico e lo si sta già utilizzando in tutti i paesi perché è disponibile grazie a un programma di accesso allargato, il cosiddetto expanded access. Anche in Italia il farmaco si può usare con questa modalità, dottoressa? Abbiamo già a disposizione il farmaco da un paio di mesi, abbiamo già iniziato ad avere l'uso compassionevole, ovviamente con le procedure da seguire, con le richieste al comitato etico e ovviamente alla ditta produttrice che devono approvare in base alle caratteristiche dei pazienti e alla linea di trattamento e devo dire che c'è stata questa grande intesa tra Merck e Limi proprio per riuscire a creare un database in modo da raccogliere in modo prospettico e non retrospettivo i dati di questi pazienti. Se riusciremo come ormai abbiamo già creato ad avere un database in cui raccogliere i dati che saranno circa 700 pazienti trattati nel nostro paese noi potremo avere sicuramente un'idea della reale attività efficace del farmaco e questo sarà il punto fondamentale su cui questo verrà approvato da parte delle agenzie regolatorie. Certo, voglio sapere appunto, oggi l'immunoterapia è forse il tema più caldo in ambito oncologico e parlando di melanoma c'è già un farmaco immunoterapico approvato che è l'ipilimumab, c'è quello che ci ha detto lei, il pembrolizoma, ce n'è un altro che è il nivolumab, ecco che prospettive aprono questi farmaci appunto nella cura del melanoma metastatico? Intanto ipilimumab che è il primo anticorpo immunomodulante approvato per il melanoma recentemente, proprio in questi giorni, approvato anche in prima linea nel trattamento del melanoma è stato diciamo il primo farmaco che ha dimostrato in assoluto un vantaggio di sopravvivenza per i pazienti con la malattia in fase avanzata. Il vantaggio che dà è quello di avere una sopravvivenza a lungo termine in circa il 20% dei pazienti noi sappiamo che a 3 anni, 4 anni, 20% dei pazienti trattati è ancora vivo. Ovviamente parlando di anticorpi anti-PD1 stiamo andando molto avanti, quindi stiamo andando verso il raddoppio delle sopravvivenze. Per nivolumab abbiamo già i dati di sopravvivenza a 3 anni che sono del 40%, quindi è esattamente il doppio di quello che si può ottenere con ipilimumab e pensando ad un futuro di combinazioni di questi farmaci sicuramente riusciremo ad ottenere ancora di più. Grazie. 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 Grazie.